Un investimento da 8 milioni di euro per il primo centro sportivo sostenibile d'Italia certificato SAITS e il Platis Center, una struttura di nuova generazione a impatto zero grazie all'installazione di pannelli solari. Tra il suo fiero e l'occhiello ci sono i quattro campi da paddle, una nuova disciplina che da qualche anno sta spopolando anche a Verona. È uno sport che sostanzialmente nasce dal tennis, è nato in Sud America, qui in Europa negli ultimi anni è esploso soprattutto in Spagna e adesso negli ultimi anni anche in Italia, adesso già a Verona ci sono un bel numero di strutture, insomma il movimento paddle sta prendendo sempre più piede. La cosa bella diciamo è che ha dato un po' a tutte le età, quindi dal bambino fino alla persona più anziana è un gioco che è alla portata di tutti. È molto semplice da imparare, quindi non richiede particolari pratiche per fare una partita di un livello discreto e questo è uno dei motivi per il quale ha preso poi tanto piede e qui appunto all'interno del Platy Center è stata creata una struttura polivalente dove ci sono varie discipline sportive da poter fare, tra cui beach volley, calcetto, c'è la piscina, il bar, il ristorante e all'interno è stato ricavato appunto questa struttura che adesso è scoperta ai lati ma coperta con il tetto sopra dove appunto si può giocare a paddle, ci sono quattro campi panoramici completamente nuovi di ultima generazione. Tutti i campi da paddle sono omologati fit e coni e possono ospitare competizioni nazionali e internazionali il tutto con un occhio di riguardo all'ambiente dato che la struttura, grazie al tetto fotovoltaico, è a impatto zero. Al Platy Center sport e sostenibilità hanno trovato caso. Diciamo che sicuramente rispetto ad altre strutture qui c'è il grosso vantaggio che posso farmi una partita a paddle poi posso andare a farmi un tuffo in piscina oppure posso andare al bar sempre della piscina e quindi stare bello rilassato e gli orari di apertura noi apriamo alle nove e fino a mezzanotte si può giocare la sera ovviamente è tutto illuminato, ci siamo noi maestri che possiamo fare anche delle lezioni quindi vi aspettiamo qui al Platy Center per venire a provare questo nuovo sport e viva il paddle!